Meghan Markle e il biografo del principe Harry hanno lanciato un brutale attacco al padre tossico della duchessa del Sussex dicendo che non gli deve niente, il biografo del duca e della duchessa di Sussex, Omid Scobie, ha attaccato Thomas Markle dopo che è emerso che il direttore delle luci in pensione di Hollywood ha lasciato l'ospedale per riprendersi da un ictus. Il signor Scobie, coautore di Finding Freedom, ha affermato che Markle si era rivolto a sua figlia e non meritava la riconciliazione, in attesa di un post sul blog di Yahoo, ha dichiarato. Per Thomas, che entro 24 ore dalla dimissione dall'ospedale ha continuato le sue chat sui tabloid, ha intenzione di continuare a parlare fino a quando non riceverà l'attenzione di sua figlia che sente di meritare. Ma è qui che si sbaglia. Dopo instancabili e falliti tentativi di riparare la loro relazione, Meghan non gli deve niente. Viene tra le notizie che la duchessa di 40 anni aveva contattato suo padre per porre fine alla loro faida di quattro anni dopo che aveva subito un ictus, Meghan si è allontanata dall'ex direttore delle luci, che vive a Rosarito, in Messico. Da quando è stato sorpreso a mettere in scena le fotografie dei paparazzi prima del matrimonio di lei e di Harry nel 2018. Il signor Scobie ha descritto il momento devastante in cui Meghan ha saputo che era la fine della strada con suo padre e ha eretto un muro di silenzio alle comunicazioni con il signor Markle. Ha scritto, staccarsi da un genitore tossico è una delle decisioni più difficili che un bambino possa prendere, ma quando quel membro della famiglia ha una storia di creazione di stress, ansia e dolore attraverso comportamenti abusivi e tattiche manipolative. Porre fine alla relazione è spesso l'unico modo per interrompere il ciclo, quando Thomas ha risposto alla richiesta scritta a mano di Meghan alla fine del 2018 di interrompere la messa in onda della loro attività privata alla stampa, la soluzione con cui ha risposto è stata quella di organizzare una telefonata a misura di media per mostrare al mondo che sono andati avanti. Grazie a tutti! Grazie a tutti!